Così la parola ci sospinge verso l'unità. Dialogo con gli ebrei e preghiere per l'unità dei cristiani nelle iniziative del mese di gennaio. Domani pomeriggio alla Spezia nel Salone di Tele Liguria Sud il rabbino di Genova Giuseppe Momigliano otterrà una meditazione sul libro biblico delle Lamentazioni. E a fianco il pellegrinaggio a Roverano una splendida giornata di sole ha favorito la partecipazione dei fedeli al primo dei pellegrinaggi mariani del 2018 che si è svolto appunto questa mattina nel santuario della Val di Vara. E a fianco il testamento biologico e la posizione della Chiesa. Trovate la posizione appunto della Diocesi della Spezia Sarzana e Brugnato sul tema del testamento biologico del quale si è molto discusso in questo periodo. A centropagina la scelta dell'insegnamento di religione cattolica un documento dei vescovi per studenti e genitori documento che arriva appunto alla vigilia della scelta che devono fare le famiglie se fare fare o meno ai propri figli le ore di insegnamento di religione cattolica ai propri figli nelle scuole. E a fondo pagina i sogni e le fiabe nei dipinti di Giuliana e Cettina. È aperta sino a mercoledì la mostra delle due pittrici che spongono insieme nella sede degli artisti cattolici. E infine a fianco gli appuntamenti degli esercizi spirituali previsti per il 2018 al monastero di Santa Croce. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'insetto spezzino del quotidiano cattolico a venire.